Venga a inquadrare qui le signore che vi dettete col ferro da stiro, non hanno un buon rapporto, chi può per i giù, Guido, qualcuno? La, le signore, queste qua, Telma e Luisa, che... Aspetta, tu non sei rigirato, quando tu hai detto sono cintura nera di ferro da stiro, stavano partendo in una ola, ma io le ho fermate per un motivo, perché la ola adesso la farete, perché se tu sei veramente campione del mondo, cintura nera di ferro da stiro, è arrivato il momento di dimostrarlo. Grazie Franci, addirittura per te la Rai ha creato un ferro da stiro a batteria, mascotta uguale, già pronto, siamo in sicurezza assoluta, non puoi rimanere folgorato dalla scossa, occhio che però è già bollente. All'incontrario, cioè nel senso girarlo questo o l'altra parte. Stai a parlare veramente con uno che ha cintura bianca di tutto. Così? Ah, mo sì. Maestro, faccia un minuetto. Carion. Carion, fammi un altro giro. E' cagliato adesso. Lunedì. C'è anche del ballo oltre all'ostriano. Ah, ma è meglio così? Sì, sì. Perché a casa ce l'ho messo così. Ah, capito. Amiche da casa, devo intanto dire qualcosa? No, no. Cioè, amiche da casa, guarda, detto fatto, sembra detto fatto. Aspetta, fermo. Già una s'arrabbiata, no? Una, parla una. Er collo. Aspetta. Calma, ce la possiamo fare? L'italiano è una lingua anche bella, si è parlata. Si comincia dal collo. Eh, ma ogni ragione ha un suo metodo, eh? Allora, qui, qua, sì. Qua nel Lazio la signora dice, si comincia dal collo. No, io lo faccio dopo. Eh, si spacca lo spogliatoio. Lei faccia la sarta dall'inizio del davanti, come fa lui. Lei è sarta, inizia a dar davanti. Sembra forum, all'improvviso siamo diventati torto o ragione. Notaglio, lei che sei più peccabile, da dove stirerebbe? Io non stiro. Io non stiro, ne dà per palo. Che fatica. Vado? Da dove inizia? Da qua. Dar davanti. Aspettami qua, eh. Vieni, sarta. Sta buona, zitta, vieni con me. C'è il gradino? Sì, dove? Allora, come ti chiami? Io, Rossella. Io, Flavio. Che vuole qui? Rossella. Faccio qua. No, vorrei una perizia. La donna di casa, casalinga, stiratrice esperta. Infatti le maniche non le aveva fatte. Le maniche non le aveva fatte. Vabbè, giudica il fatto. No. No, Ferro. I polsi si aprono e si stirano. L'azzo, hai ragione. Eh, Sardegna è vero. I polsi in Sardegna ne fanno. Ne fanno i polsi. Fa caldo, ma è che è corto. È freddo però il ferro. Come il ferro? Fa mille gradi. È quasi freddo, perché mi stirano. Eh? Vuoi provare sotto la mano? Prova. Ok, ok. No, no, non è caldo. Fa come ti pare. È freddo? E allora è quello che era. Basta. Non è molto caldo. Non è molto caldo. Non è molto caldo. Non è molto caldo. Se può fare. Franco, va bene così. Tornati a posto. Io pagherei. Pagherei per arrivare a questo livello. Grazie. Dottoressa, arrivo. Sì. Dottoressa, arrivo. Guardi. Sembra un tecnico di laboratorio. L'assistente del radiologo. Sì. Lo dico. Io la dico quella cifra. È una cifrona. Nonostante la partita stesse prendendo una brutta piega.